Porta uno in posizione. Ok, uno. Tutte le forze sono in posizione, signore. Dobbiamo aspettare la prossima trasmissione. Un extraterrestre che vuole collaborare con noi. Vuole aiutarci. Altrimenti, perché trasmetterebbe sulla nostra lunghezza d'onda? Perché non mi vuole parlare? Ha ripreso. Perché non vuole dirmi chi è? Deve portirlo a qualcuno. Diavolo, cos'è che disturba il segnale? Riavistato secondo UFO. Base lunare, allarme rosso. Intercettatori, lancio immediato. Dio croce. Dio croce. Di s essential. Vicino fa solo per Johnny. Di s Kleinra. eligibility. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti